20, 21 e 27 settembre torna Scenari Europei al Florian Meta Teatro con tre giornate di performance, videoarte, musica e il Florian apre la stagione autunnale con un festival incentrato sulle giovani generazioni e sui linguaggi plurimi dell'ormai conosciuto e apprezzato Scenari Europei. Si è svolta la conferenza stampa nella sala giunta del comune di Pescara alla presenza del vice sindaco e assessore alla cultura Maria Rita Carota e della presidente della commissione cultura Maria Rita Paoni Sacone a testimoniare l'interesse dell'amministrazione comunale per l'attività di promozione teatrale e culturale che il Florian svolge in città e in regione da 36 anni. Scenari Europei vede la direzione artistica di Giulia Basel e Massimo Vellaccio. Come sempre proponiamo artisti giovani, compagnie emergenti in collegamento con il premio Scenario che è un premio nazionale più importante che appunto è rivolto alle giovani formazioni e ai giovani artisti. Noi portiamo qui a Pescara i vincitori del premio Scenario Infanzia e premio Scenario Adolescenza che si è appunto svolto adesso il 4 settembre a Bologna e una menzione speciale ai finalisti. Come sempre la nostra formula prevede di presentare due progetti per ogni serata di 20 minuti ciascuno e un momento musicale destinato di solito preferibilmente a formazioni pescaresi e abruzzesi come sarà anche quest'anno. E quindi all'interno della stessa serata avremo due momenti teatrali, un momento musicale e poi ci sarà l'incontro finale a fine serata con tutti gli artisti e con il pubblico. È un momento bello, importante di confronto, di approfondimento. Siamo molto lieti di presentare questa rassegna che è giunta alla nona edizione ed è sempre per noi importante poter supportare il Florian che ormai da oltre 35 anni offre alla città un calendario di attività importanti sia per quanto riguarda il teatro d'avanguardia, per la sperimentazione teatrale e per tanto altro perché come al solito nei vari appuntamenti sono previste anche delle attività che hanno dei risvolti sociali e comunque importanti per tutta la popolazione.